Ritenga utile, Vice Ministro, anzi in questo caso il Sottosegretario, scusate, se non ritenga utile promuovere anche nel contesto di Expo nei prossimi mesi e in occasione della riapertura delle scuole a settembre vista l'importanza pedagogica di questo evento, campagne informative rivolte agli studenti finalizzate alla diffusione di corretti stili alimentari e di stili alimentari che valorizzino quella che è il nostro Made in Italy. Grazie. La ringrazio, Deputata Benedetti. Sottosegretario per l'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Gabriele Toccafondi, a facoltà di rispondere. Grazie, Presidente. Innanzitutto, è opportuno precisare che, come riferito dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con nota del 28 maggio 2015, l'iniziativa dell'assessorato all'istruzione della Regione, citata appunto nell'interpellanza, è stata assunta direttamente e in piena autonomia nell'ambito delle prerogative dell'ente regionale. Il competente Ufficio Scolastico Regionale ha invece comunicato a questo Ministero di aver promosso azioni e progetti finalizzati a favorire il processo di acquisizione e riappropriazione dei valori connessi alla cultura e alla tradizione alimentare del nostro Paese, stimolando le scuole lombarde ad attivare un'appropriata progettualità sui temi dell'Expo. Tutto ciò in linea con la Carta di Milano, come anche la stessa interrogazione ricordava e richiamava. Posto ciò, a testimonianza della valenza fondamentale che si riconosce all'educazione alimentare, si citano solo alcune delle iniziative intaprese da questo Ministero al fine specifico di diffondere tra i giovani corretti stili di vita e un sano rapporto con il cibo. Le iniziative riguardano sia l'attuazione di alcune disposizioni previste dal Decreto Legge 104-2013, misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, sia la programmazione delle scuole in visita di Expo 2015. Infatti, il citato Decreto Legge promuove un'azione coordinata di questo Ministero con il Ministero delle politiche agricoli e con il Ministero della salute. In vertù di tali collaborazioni interministeriali, il MIUR da tempo partecipa attivamente al programma comunitario Frutta nelle scuole, realizzato dal Ministero per le politiche agricole, e al programma Guadagnare salute del Ministero della salute. In virtù sempre del Decreto Legge, sono state realizzate, precisamente nell'ambito delle attività collegate al programma Frutta nella scuola, azioni di formazione rivolte agli insegnanti delle scuole primarie, al fine di fornire loro strumenti e conoscenze per promuovere negli alunni un adeguato consumo di frutta. Già il 22 settembre 2011, il MIUR ha pubblicato le linee guida per l'educazione alimentare nella scuola italiana. Il documento è frutto di un lavoro del Comitato Tecnico Scientifico per l'attuazione del programma nazionale pluriannale Scuola e Cibo, che ha l'obiettivo di promuovere l'educazione alimentare quale argomento trasversale e interdisciplinare. L'iniziativa, rivolta ad alunni, famiglie e docenti, vuole sollecitare l'adozione di corretti e salutari stili di vita attraverso i temi dell'educazione alimentare, dell'educazione al movimento dello sport e dell'educazione allo sviluppo sostenibile. Con decreto del 6 ottobre 2014 è stato poi costituito il Comitato Scientifico per l'Educazione Scolastica Alimentare con compiti di consulenza tecnico-scientifica e coordinamento delle specifiche iniziative. È altresì in corso di avanzata realizzazione l'aggiornamento delle linee guida per l'educazione alimentare, con particolare attenzione ai temi di Expo, quali ad esempio gli aspetti relativi alla sostenibilità, agli sprechi alimentari e l'applicazione Cambio Stile, dedicata agli stili di vita corretti e salutari. Inoltre, in collaborazione con il Ministero della Salute, il MIUR ha realizzato una prima indagine conoscitiva, i cui esiti saranno pubblicati dal Ministero della Salute, in merito alla ristorazione scolastica, allo scopo di valutare l'applicazione delle specifiche linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica, formulate allo scopo di facilitare sin dall'infanzia l'adozione di sani e corretti stili di vita. Inoltre, in data 2 aprile 2015, il MIUR e il Ministero della Salute hanno sottoscritto il protocollo d'intesa per la tutela del diritto alla salute, allo studio e all'inclusione, finalizzato anche alla promozione di stili di vita sana. Per quanto riguarda, nello specifico, la partecipazione delle scuole ad Expo 2015, il MIUR favorisce la più ampia partecipazione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. La visita a Expo costituisce infatti il punto di arrivo di esperienze didattiche che i giovani studenti italiani hanno vissuto e stanno vivendo nelle scuole di appartenenza. In particolare, per l'anno scolastico 2014-2015, sono stati promossi due bandi per gli istituti scolastici. Il primo, la scuola per Expo 2015. Attraverso un concorso nazionale, circa 1.500 scuole hanno sviluppato progetti, utilizzando le tecnologie digitali sulle specifiche tematiche dell'esposizione universale, e proponendo le proprie idee su ricerca e valorizzazione delle tradizioni agroalimentari e innovazione della filiera agroalimentare dei territori di riferimento. Educazione alimentare al consumo consapevole e sostenibile, educazione alla legalità nel settore agroalimentare, sviluppo di scienze e tecnologia per la sicurezza e la qualità alimentare, per l'agricoltura e la biodiversità, cooperazione internazionale per la lotta alla malnutrizione e alla fame nel mondo. Together in Expo 2015, l'altro bando, è un bando invece internazionale, proposto dal Ministero per rendere protagonisti in Expo docenti e studenti di tutto il mondo. Motoro del progetto è il sito togetherinexpo2015.it, una piattaforma interattiva. Inoltre, grazie all'accordo con Padiglione Italia, numerose rappresentanze di studenti di ogni ordine e grado coinvolte nella realizzazione di ben 736 progetti avranno l'opportunità di presentare i propri lavori negli spazi del Padiglione. Oltre 5.000 studenti aderiranno alle finali di campionati studenteschi a Torino e si richieranno ad Expo partecipando alle attività del villaggio Joy of Moving. Grazie al prototocollo con Confindustria adotta una scuola per Expo, molte scuole potranno essere sostenute nell'organizzazione della visita. Infine, per rendere disponibili continui aggiornamenti e informazioni utili, il Ministero ha realizzato un apposito portale, la scuolaversoexpo.it e una campagna informativa dal titolo Io voglio andarci e tu. Grazie. La ringrazio. La deputata Benedetti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interpellanza. Prego. Sono soddisfatta per quel che riguarda le parole. Se ascoltiamo le parole, chiaramente nessuno può dire di non essere d'accordo con le iniziative prese dal Ministero, col fatto appunto di parlare di educazione alimentare nelle scuole, di educazione al non spreco, eccetera, ma citando un famoso film, le parole sono importanti e sono importanti perché devono essere seguite dai fatti. Allora, il discorso è questo. Può star bene il fatto di promuovere appunto un corretto stile di vita alimentare, ma nel momento in cui nella promozione di un corretto stile di vita alimentare finisce la promozione...